La tecnica ormai è ben nota, chiedere un'informazione di un luogo, di una via oppure fingersi una conoscente. Come noti sono anche i soggetti che la praticano. Spesso l'aggressore o il borseggiatore è una donna, giovane e di comune aspetto, con un complice che spesso la attende in auto poco distante, come anche le vittime predestinate di questo genere di ladrocinio, gli anziani. È già accaduto e ancora accadrà, alle volte è andata male, anzi molto male, con persone che si sono visti sfilare da sotto gli occhi, oggetti per lo più di modesto valore economico ma di incommensurabile valore affettivo, spesso il ricordo di chi non c'è più, una catenina, un medaglione, un braccialetto, ma alle volte va anche bene, vuoi per il tam tam delle notizie, vuoi perché figli e nipoti li mettono in guardia, vuoi l'istinto, alle volte i malintenzionati o la malintenzionata in questo caso, è costretta a mollare la preda e darsi a gambe, non lasciando però purtroppo indenne la vittima da spiacevoli conseguenze come angoscia e paura che rimarranno per molto tempo, come è accaduto recentemente alla madre di una nostra telespettatrice. Come di consueto, lei dopo la messa si reca al cimitero urbano di Fano, ma proprio vicino all'entrata, verso le 9.40, è stata avvicinata da una signora, insomma abbastanza robusta, capelli mori, per chiedere praticamente dell'informazione. Invece questa signora ha tentato di derubarla, tant'è che l'ha afferrata per un braccio, ha cercato di rubargli l'orologio d'oro che lei aveva al polso. Fortunatamente mia mamma è stata molto lucida e quindi ha desistito, ha urlato e in questo modo ha disarmato questa signora che ha desistito e poi è scappata. Lì vicino però l'aspettava un'auto bianca che ha preso questa signora e poi si sono dilaguati. Io voglio fare questa segnalazione proprio perché purtroppo mia mamma ha 80 anni, fortunatamente non è stata spinta, cioè quindi non è successo qualcosa di più grave come poteva succedere e quindi chiedo anche a tutti gli anziani, alle persone, insomma di fare attenzione, di stare attenti che se dovessero avvicinarsi queste persone per chiedere delle informazioni, insomma devono in qualche maniera diffidare. Adesso però vi rivolgerete alle forze dell'ordine proprio per lasciare una traccia di questo episodio spiacevole. Sì certo, proprio stamattina ci richieremo dai carabinieri per esporre denuncia, proprio per far sì che queste cose possano essere tenute sotto controllo, a tutela specialmente delle persone più deboli.